hello everybody ciao a tutti eccoci qua dunque gente hello people so we are in italy siamo in Spagna precisely at Numana regione Marche in region of Marche sulla costa Numana è una bella cittadina it's very beautiful a small town facing place the situated che affaccia facing to the sea or Adriatic sea sulla costa est on the eastern coast of Italy more or less about let's say center Italy okay Marche regione Marche in questa foto vediamo è una bella vista sul mare is nice sea view diciamo che molto probabilmente let's say that most probably we are at nearly to the sunset maybe siamo al quasi al tramonto forse looks like sembra che siamo al tramonto ok at the sunset questo qui questa è una tipica una bellissima foto bellissima foto qua possiamo vedere la linea dell'orizzonte di horizon line è veramente netta ok is clearly marked ok è netta clear you know precisely visible ok che qui questo qui questo qui è è una street light è una street light che in italiano is a male ok è un lampione street light in italiano lampione ok qui vediamo la linea dell'orizzonte i colori the colors the color shades in questa foto meravigliosa the shades scord shades in this uh wonderful photo possiamo vedere qui è dal diciamo è un giallo tenue ok is pastello is a pastel 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 color you know going from pinkish a little bit pinkish here rosa to giallo chiaro to giallo chiaro to light yellow to the gray you know it's a mix it looks difficult to describe the color of this sky you know because it sembra facile as looks simple but it's um it's a mix of um of light colors mix you know it's beautiful so beautiful on sea color is more easy diciamo che è uh from gray to blue okay dal grigio blu diciamo in italiano no blue gray e grigio blu con queste striature with this little uh with this little lines here on the sea okay striatura in italiano queste le chiamiamo striature sull'acqua ok striature sull'acqua si this one che cambiano colore no the change color ok questo qui è un pino marittimo tipico pino marittimo maritime il mediterraneo mediterraneo sorry volevo dire i mean è un pino mediterraneo tipico no crede che c'è i long long needles comparing a differenza di altri pini tipi di pini ed è un albero tipico it's a typical tree of the mediterranean vegetation especially you know on the coastline okay all right guys vi consiglio numana un po la legione marche is a little underrated non è tanto considerata nel turismo internazionale in the international turismo però mark my world if you go to mark if it happens se vi capita if it will happen se vi capita di visitare to visit the region market you will be astonished of house beautiful all right okay guys grazie per oggi abbiamo visto un po questa bellissima ma la cosa più importante di questa foto i want to finish saying voglio concludere dicendo che the most beautiful thing of this photo is the peaceful feeling that is giving you these colors you know that is amazing that is beautiful i love it how with the pencil i can move the focus of the of the camera you know playing playing with where is here 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 oh look 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 uh it's nice how i can play with the focus using the 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 okay guys grazie thank you very much ci vediamo domani ciao cari take care e vi auguro una buona serata wishing you a good evening ciao